Uomo magnete blus, donna magnete minu, rider, mike, via, biridon telecom, via, primo agganciamento, secondo agganciamento, alzio componenti jayki, minu, fuori, blus fuori, rosa di incazzo, uomo magnete lusonore, martini d'acciaio, attacco alla droga urbata, senza fuori, senza fuori, unipolos 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 adesso basta bella volta ragazzi no non lo è jake non è invincibile takeru mai gli alteri si stanno preparando per un attacco a fondo se rimanete separati non potete affrontarli dovete unirvi e formare jake